Buona domenica a tutti e benvenuti all'analisi ciclica evoluta su DAX e anche su Fuzzimib, anche se ormai sapete che ne parliamo meno. Innanzitutto volevo ringraziarvi perché in meno di due mesi il canale ha raggiunto oltre 460 persone e sembra che anche le analisi siano interessanti, anche perché possono aggiungere magari plus valore e portare a dei gain a chi desidera studiare e imparare l'analisi ciclica evoluta, che come sapete è un sistema, è un metodo che non si basa su informazioni che possono essere interpretate, capite, cambiate, ma su numeri, statistica, onde, quindi molto differente e molto più razionale. Se si entra in un metodo come questo, ci sono delle regole precise che vanno seguite, pena la perdita di soldi. Ma torniamo a noi. Allora, la situazione è l'attuale, come già comunque parentata. Possibile chiusura di T2 ciclo mensile a 38 giorni sul massimo 43 e o partenza di raccordo lingua oppure partenza di secondo T2 che ci porterebbe quindi a ritestare i massimi a 11.235. Tutte le volte che finisce un ciclo grande almeno come un T1 o un bisettimanale, la mia domanda è sempre la stessa. Ci sarà un raccordo prima della partenza, quindi una finta rialzo con un ritorno verso il basso, e poi si partirà a salire, oppure si partirà direttamente a V, come in questo caso? E tutte le volte che chiude un ciclo, appunto, almeno più grande di un T1, fatevela questa domanda. I raccordi sono possibili anche, ovviamente, tra onde di grado T settimanale e tutto quello che volete, ma sono più probabili tra, appunto, cicli superiori al T1, al bisettimanale. Per cui, come faremo identificare un eventuale raccordo piuttosto che lingua di baia, ovvero finta rialzo con ribasso e per ripartenza? Faremo molto semplicemente. Uno, se ci sarà un altro aggiornamento superiore, e un massimo superiore a 10.547, sarà meno probabile che si tratti di un raccordo. Nella realtà dei fatti, sarebbe interessante che si andasse sopra questo livello a 10.698. Questo già ci permetterebbe di avere una violazione, non solo di un paio di swing, ma di qualche cosina di più. Quindi questa è la prima notazione da ricordarsi. Se andremo sopra i 10.698, correremo meno il rischio di andare a finire su un'ipotetica finta rialza con ribasso. Controllo. E se invece il rischio fosse più papabile, dovremmo andare, purtroppo, già magari, dalla giornata di lunedì in avanti, sotto i 10.382, e a quel punto rischieremo, appunto, di andare a finire di nuovo in area 10.160. Per cui avremmo un rischio di ritorno verso la media mobile a 50 periodi. Vediamo. Gli indicatori ci dicono che qui, appunto, c'è stata già discesa, ma come vedete, ci può essere una ripresa della salita su MAPD. L'altra cosa che è interessante, appunto, è questo minimo, che è quello fondamentale per capire se poi ci sarà una ripartenza, almeno inizialmente verso il livello più alto dell'accumo, a circa 11.000 punti, 11.029 punti. Tra l'altro ritorneremo sullo 0.50 di Fibonacci, sopra lo 0.50 di Fibonacci, del rifacciamento di Fibonacci. Abbiamo già dimostrato una forza che ci ha portato sopra, poi però, come sapete, appunto, abbiamo avuto Candela Rossa e Gapdown che hanno confermato che comunque questo è un livello importante, anche a livello algoritmico, e che va superato se si vuole andare ancora più su e ritornare, appunto, verso gli 11.626. Questo, per quanto riguarda il DAX, è tutto. Mi raccomando, fate sempre molta attenzione e quando ci ritroviamo in chiusura, magari, di un TP2, non azzardate operazioni particolari perché rischiate, appunto, di vedervi ritornare verso i minimi e pensare che ci sia ancora qualche cosa che non va. Per quanto riguarda, invece, il Fuzzimib, come sottolineo costantemente, la forza è estremamente più bassa. Qui c'è la possibilità, persino, che sia partito un secondo TP2 che ha già scarsissima forza a rialzo perché siamo arrivati a 24 bar che è il minimo di durata di un TP2, ovvero di un ciclo mensile. Questo potrebbe essere non soltanto un TP1, cioè un secondo bisettimanale, ma anche un secondo mensile. Per cui, attenzione, soprattutto a questo minimo a 16.551, fondamentale, perché parta un nuovo settimanale e in base alla spinta anche volumetrica al superamento della media mobile a 50 periodi avremo indicazioni su questo punto che è cruciale. Per quanto riguarda l'inverso, sta spingendo, per cui anche in questo caso è possibile, oltretutto, che non da qui sia partito un secondo TP2 inverso, ma da qui. Non ho aggiornato perché, in realtà, la parte più difficile da gestire in questo periodo è proprio l'inverso, ma vedete, qui siamo arrivati a 48 barre, siamo andati oltre quello che è un T più 2 come durata di inverso, TP2 inverso, per cui bisognerà capire, anzi, capiremo molto rapidamente che se ritorneremo sopra questo massimo a 18.302, in realtà questo effettivamente potrebbe essere stato già un T più 2 inverso che ha provato a spingere verso l'alto, ovvero verso il basso di indice, e poi effettivamente è ritornato al suo posto ed è andato a chiudere, appunto, sopra i 18.302, confermando che non soltanto il primo T più 1 è stato già ribassista e ha vincolato tutto il resto del movimento a ribasso, ovvero a rialzo di indice, ma anche il secondo. Questo è tutto, vi auguro una splendida domenica, per me sarà così perché mi sono già programmato in tal senso. Se l'analisi vi è piaciuta mettete un like e una pacca sulla spalla per tutto il lavoro che non vedete e che sta dietro a tutte le centrature, a tutti i controlli che vengono fatti, e a tutto il tempo che dedico appunto a queste analisi. Ringrazio sempre la manina con il pollice al sol basso che c'è sotto quasi tutte le analisi che posto perché effettivamente mi fa capire che sto facendo bene e che non sto sprecando il mio tempo come chi invece fa così. Buona giornata!